Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, lunedì 28 novembre 2016, questa è Occhio ai giornali, la Rassegna Stampa con i due quotidiani, con gli inserti della provincia di Peso Urbino, vale a dire il resto del Carlino ed il Corriere Adriatico, come sempre però un calendario che invece è universale, guardiamo prima di tutti che è il calendario del giorno con il Santo, oggi è un Santo tra l'altro nostro corregionale perché stiamo parlando di San Giacomo della Marca che è un tanto un discepolo di San Bernardino da Siena, però Domenico Gangali, questo è il vero nome, nacque a Monte Prandone nella Marca Anconetana nel 1393 e pensate, era talmente bravo nelle sue omelie che a Milano durante una di queste 40 prostitute entrarono in un apposito ospizio dopo una sua predica nella festa di Santa Maria Maddalena. Morì nel convento della Trinità di Palazzo Napoli e il suo, il culto si diffuse in Italia, Ungheria, Bosnia e Bohemia. Il sole è sorto alle 7.17, tramonterà alle 16.34 minuti, il tempo oggi non sarà una bella giornata dal punto di vista materiologico perché arriveranno i venti freddi, il limite delle nevicate sarà attorno ai mille metri nel pomeriggio, le temperature sono in picchiata soprattutto nei valori massimi, i venti inizialmente saranno di brezza tesa ma poi in rotazione da nord-est da metà mattinata, quindi attenzione intensità in aumento lungo il litorale fino a vento teso con raffiche fino a vento forte o burrasca in particolare lungo la costa pesarese. Quindi che cosa succede? Siamo abituati ai 20-18 gradi nei giorni scorsi e quindi ci arriveranno raffreddori e quant'altro, allora bisogna coprirsi, attenzione perché durante la mattinata arriverà questo vento freddo e anche la pioggia. Domani invece il tempo migliora, avremo temperature ancora in diminuzione però i venti sono ancora forti domani lungo la costa però non avremo, vedete, precipitazioni. Il tempo sarà stabile almeno fino alla giornata di venerdì. La cronaca in primo piano, siamo sul resto del Carlino, la fotonotizia è per il padre ed il fratello di Alima che non credono all'overdose per la morte della studentessa, della brava studentessa di 22 anni, forse dicono adesso loro è stata costretta. Ecco la ragazza nella fotografia. Questa è la prima pagina del Carlino, entriamo subito nelle pagine interne e ripartiamo proprio da questo dramma, da questa tragedia che ha colpito questa ragazza di 22 anni. Era troppo felice, dice, dicono i familiari adesso per finire in questo modo, per finire così. Voglio la verità sulla sua morte. Parla il padre della 22enne deceduta a Macerata, ma è pesarese, lo ricordiamo. Siamo gente per bene, rispettiamo la religione ed anche Alima lo faceva. Mia figlia me l'hanno portata via, avrebbero fatto bene, del bene, avrebbe fatto del bene all'Italia. Il fratello Malek, mia sorella, era una persona forte, non può aver deciso quel gesto per depressione. Spero che nessuno le abbia fatto del male. Adesso le ricerche sono per capire chi abbia venduto questa dose letale di droga. Voglio sapere se qualcuno l'ha obbligata, dice il padre, a fare certe cose. E Ahmed, appunto il papà, è oggi un padre distrutto. E poi sotto le amiche inconsolabili e i carabinieri indagano da Macerata poi una messa in ricordo per questa ragazza. Andiamo adesso invece sulla sulla pagina sulla pagina 2 del resto del Carlinò. Steso a terra ed immobilizzato, implora, risparmiate i miei anziani genitori. Imprenditore fanese rapinato in una casa, in casa da una banda di persone incappucciate. Faccia a faccia dunque con i rapinatori, paura in una villetta di via Piccinini dove venerdì pomeriggio il proprietario è rincasato prima del previsto, imbattendosi così in tre topi d'appartamento che gli erano appena entrati in casa. Sotto shock l'attività di Alessandro Gualandi, esclusivista di Marchio Livetti e Toshiba, sopra il titolare Alessandro Gualandi di 64 anni, protagonista di un terribile agguato in casa venerdì sera intorno al 18.45. Tutti i particolari poi nell'articolo pubblicato sul giornale di questa mattina. Poi ci sono notizie per fortuna anche un po' più leggere come quelle che riguardano l'apertura del Natale. Ieri in piazza 20 Settembre con l'albero che abbiamo già apprezzato e conosciuto l'anno scorso ma è stato presentato quest'anno in maniera certamente un po' diversa. Tantissime persone hanno assistito alla cerimonia dell'accensione di questo albero. Anche Fano riempie la sua piazza dopo quella di Pesero. Musica, stelle luminose, fasci di luce. Seri si compiace. Il mio augurio è volersi bene. Con la collaborazione dei commercianti gli addobbi si sono moltiplicati. Vedete c'è il sindaco di Fano Massimo Seri qua con l'albero illuminato che è stato presentato con musica e immagini proiettate su dei teli bianchi che hanno coperto nella prima parte dello spettacolo l'albero del Signore e Seri. Seri non è, lui è un altro che porta lo stesso nome. Vedete anche il Vescovo Trasatti vicino ai Babbo Natale. E quindi questa è la prima pagina di Fano. Sotto invece Sapore e Romi d'autunno ha premiato le migliori etichette marchigiane con un pensiero naturalmente sempre ai terremotati. Olio extravergine poco, sì, ma buonissimo. Sapete tutti che l'olio quest'anno, le olive, ce n'erano davvero pochissime. Però quelle poche che hanno raccolto insomma pare sia abbiano dato un buon olio. Medici di famiglia a rischio, assemblea dell'ordine con il giuramento dei neodottori. E poi sopra nuovo ospedale, 4-5 piani, più parcheggio interrato a Muraglia, la Regione fa il progetto preliminare. Adesso andiamo sul Corriere Adriatico, andiamo a vedere la prima pagina. Eccola qua. Alima, rabbia e dopo il dolore, caccia al venditore di morte, overdose fatale da macerata. Le indagini potrebbero spostarsi adesso nel Pesarese. Mentre la fotografia è per il premio fedeltà al lavoro della Camera di Commercio e vedete Nicoletta Mantovani qui insieme ad Alberto Drudi. La moglie di Pavarotti ha ritirato il riconoscimento per l'impegno del grande tenore scomparso ormai diversi anni fa. Simbolo, dicono, dice Drudi, simbolo dell'Italia che ce la fa. Entriamo allora, andiamo subito sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Spettacolo di luci e poesie in piazza ha inaugurato l'albero artistico di Paolo del Signore e Stefano Seri con un allestimento suggestivo di colori e musica al via le iniziative natalizie che prevedono un fitto calendario di vernissage e manifestazioni culturali. Nel mese di dicembre si susseguiranno concerti, presentazioni di libri, mostre, visite guidate ai monumenti e tanto altro ancora. Presto le aperture dell'Interquartieri, poi via Garibalde rinnovata e del Museo della Flaminia. Dunque centro storico che prende vita. Pensavo di averla già letta. No, sì, in realtà sì, è stata composta allo stesso modo sotto premiati migliori produttori di olio di oliva. In effetti la pagina di Fano dei due quotidiani riporta le stesse notizie. Buona la qualità nonostante la stagione sfavorevole. Nessuna azienda provinciale. Poi, sempre da Fano, ecco la dichiarazione del consigliere regionale del Partito Democratico Federico Talè. Siano i sindaci a scegliere tra Muraglia e Chiaruccia. Il consigliere solidale con Massimo Seri. L'iter dice è ormai completo. Lo ricordiamo, Massimo Seri, sindaco di Fano, dopo aver ascoltato i nove ex sindaci di Fano, in settimana dovrebbe convocare, vorrebbe sentire il parere anche dei consiglieri regionali. E qui c'è questa, appunto, questa anticipazione del consigliere del PD Talè, che dice siano i sindaci a scegliere tra Muraglia e Chiaruccia. Mentre il Corriere Adriatico pubblica anche due domande, alle quali ancora il vice presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione, Renato Claudio Minardi, non risponde. E sono due domande che pubblica in un riquadro sempre sulla pagina di Fano. Andiamo sulla Valle del Cesano, perché c'è la cronaca. Uno schianto violento tra due automobili, madre e due figli alla Santa Croce. Il tamponamento sulla Cesarense a Cento Croce. Ci sono quattro feriti e un conducente in leso. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del pomeriggio di ieri e ha coinvolto una Volkswagen e una Ford Mondeo. Da Senigallia, notte di tensione tra ubriachi e sbandati. Ferito nell'incidente, scappa dall'ospedale. Un giovane va in hotel, ma gli negano la camera e provoca il caos. L'albergatore poi chiama la polizia. Questo è il titolo. Questa è la pagina del giornale con tanto di fotografia. Vedete l'incidente rilevato poi dai carabinieri e questa è l'auto che è finita fuori strada. I residenti sventano il furto invece di una macchina, sempre a Senigallia, ma avviventi sorpresi nell'area di sosta all'ex Italcementi. Mi pare che ci siamo. Manca solo la pagina, due pagine. Quella di Urbino, che la vediamo subito. Eccola qua. Il tartufo va dichiarato patrimonio universale. Il Montrefeltro si allea con Alba e appoggia la proposta per l'UNESCO. Giuseppe Cristini presenta l'Alexio Magistralis di Marco Stabile. E poi l'ultima pagina è quella di Pesaro e Provincia. Sul piano delle asfaltature, ecco qua, il Comune di Pesaro si fa il regalo di Natale. Serie di interventi tra centro e periferia, ma l'incognita rimane sempre il meteo. Ok, questo è tutto. Allora ci fermiamo qui per la rassegna stampa e torniamo domani mattina come sempre alle 7.30. Stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Come sempre vi ricordo il nostro numero per le vostre segnalazioni, che per noi sono sempre molto importanti, 338 49 68 250. Aggiungetelo nella vostra rubrica del telefono, così ce l'avete sempre a portata di mano. È tutto, buona giornata, arrivederci. Grazie.